Grande partecipazione per la giornata dedicata alla giustizia riparativa in campo minoride, protagonisti di allievi delle ultime classi dell'isoclassico Meli di Via Albizio. Un percorso relazionale che ha messo a confronto i giovani allievi concitano che invece si sono resi protagonisti di illeciti penali. Questo momento di incontro ha permesso di riflettere sulle conseguenze derivanti dalla commissione di un reato, ma soprattutto ha evidenziato la reale possibilità, dopo aver scontato la pena, di riscatto sociale, riuscendo così a intraprendere un nuovo percorso di vita. È importante in quanto il periodo che stiamo vivendo e che stiamo attraversando ha completamente azzerato quelli che sono i valori. Quindi il fatto di riportare un attimino i ragazzi davanti a delle realtà che purtroppo sono abbastanza chiare è importante. In una scuola come la nostra è doppiamente importante, perché sembra che queste cose succedano soltanto nelle zone a rischio, invece non è così. Quindi quando poco fa la dottoressa ha parlato di bullismo, di fenomeni, di furti, queste purtroppo non hanno né una identità particolare né una zona particolare. Noi attraverso il paradigma della giustizia riparativa cerchiamo accanto a quello educativo di dare una risposta diversa, innovativa, che non solo consente al ragazzo di riparare le conseguenze del reato attraverso l'impegno in un'attività che ha una connessione diretta con il reato, ma cerchiamo di diffondere sempre più la cultura della riparazione come unica risorsa, un unico strumento utile per superare i conflitti.